Un lavoro che parte, come dicevamo prima, a telecamere spenti, da lontanissimo, che però ci porta ai giorni nostri, quindi la storia si ripete? La storia si ripete, io ho incominciato a lavorare, a me piaceva quel periodo e ho incominciato a trovare talmente tanti elementi simili all'epoca odierna che mi sono anche certi momenti molto appassionata e emozionata e anche spaventata perché veramente, cioè sembrava in certi momenti, mi sono sentita discorsi di Hitler, perché all'epoca c'erano comizi, delle forze avverse, gli spartachisti che era la sinistra, e tutti facevano dei discorsi che andavano bene anche oggi e c'era questa grande libertà che noi abbiamo anche ora e improvvisamente a un certo punto la storia si è ribaltata e ci ha portato al confine col baratro. E allora ho pensato forse sarebbe opportuno fare una riflessione, fare una riflessione anche sul fatto degli immigrati e dell'immigrazione, che siamo d'accordo, può essere molesta, però noi siamo stati anche quegli immigrati. Grazie per la visione!